continua il nostro viaggio alla scoperta dei candidati alle prossime elezioni amministrative nel territorio canalisano una nuova puntata di 20 alle 21 questa volta come ospite marco succio sindaco uscente del comune di agliè non è assolutamente mia intenzione stravolgere agliè per me agliè ha un suo equilibrio sotto tutti i profili sotto un profilo territoriale urbanistico demografico sociale vi aspettiamo venerdì 5 alle 20 e 40 su on tv web per una nuova puntata di 20 alle 21